Si torna a giocare una domenica di campionato a distanza di un mese, anche se il turno risulterà incompleto per i tanti rinvii. A lenti giorni si affrontano seconda contro prima della classe. Se i padroni di casa erano tornati in campo sette giorni prima, nel primo dei due recuperi che ha visto i giallobruti non fare sull'Algnanese, il rimini arriva dallo scivolone esterno rimediato i toscani in casa del Ghivizzano. Ma oggi non è giornata di calcoli per i biancorossi di Gaburro, occorre riprendere il ritmo che li ha visti chiudere il primo giro di Boa, in vetta, alla classifica. Arbita la gara Giovanni Agostoni della sezione di Milano, coadiuvato da Mattia Morotti della sezione di Bergamo e Doriano Isidoro, locale della sezione di Seregno. Terna tutta lombarda. 4-3-2-1 per il tecnico Serpini, ospiti che si affidano al consueto 4-3-3. Tre minuti di studio di lentigione a provare la via del gol con questo tiro centena di Staiti, bloccato senza problemi da Marietta. Il rimini replica quattordicesimo. Averi dimostra di che passo è fatto, mette la quinta a prenoti parcheggio ma trova la barra chiamata traversa nel calcio a Negalli, la gioia del gol. Primo piano per il terzino biancorosso e primo reprei a cura della regia esterna di Sport Italia. Rimini in questo caso sfortunato. Derarti, ultimo arrivato in casa biancorosso dall'altra fascia, pennella al centro questo cross. Piscitella riesce ad impattare il pallone ma non inquadra il bersaglio, primo piano meritato per l'ex Roma. Finale di tempo a cura dei padroni di casa. Il lentigione si rende pericoloso dal calcio piazzato. Staiti mette al centro, Magietta in uscita viene disturbato con la sfera che termina sul piede di formato che da buona posizione mette a lato. Il reprei ci mostra l'uscita di pugno di Marietta disturbato da Dussa con formato che non ne approfitta. A 37esimo l'occasione più limpida per il lentigione. Dall'angolo Sala chiama la battuta Staiti, diagonale di quest'ultimo con la sfera che si perde lentamente al lato con una leggera deviazione. Da qua si gola all'ultimo pallone del primo tempo. Punizione di Gabbianelli. Perfetto riserimento di Tomassini con Sorsi costretto a rifugiarsi in corner. Primo piano anche per l'estremo di casa che per evitare pericoli maggiori è costretto a rimediare rifugiandosi in calcio d'angolo. Squadre che vanno a riposo sullo 0-0. Un primo tempo equilibrato che non ha riservato a diri vero grandi emozioni. Pubblico presente che riempie la piccola tribuna dell'Imergas Green Arena. Primi piani anche per i diversi protagonisti. Gabbianelli sembra dire ad Agostoni che è mancato tanto così dal possibile vantaggio. Poi sembra dire tutto ok. Prima o poi qualcosa succederà. Con il fischio in bocca si riparte per la seconda frazione di gioco. A quarto il lentigione chiede timidamente con aduso un tocco di mano in area di rigore su traversione a cura di Caprioni. Ma come diceva il buon vuoi ad Inboscov il rigore è quando arbitro fischia. E da rimessa laterale Rossini tocchi in penale il pallone con il braccio. Questa volta per Agostoni non ci sono dubbi. Trattasi di rigore. Il replay ci mostra proprio la sfortunata deviazione ad opera del giocatore gialloblu. Dagli 11 metri si presenta Gabbianelli che spiazza Sorzi portando i Rimini in vantaggio ed andando a festeggiare con la nutrita rappresentanza ospite la propria marcatura. 6 minuti più tardi Tonnelli di gran carriera serve Tomasini. Sorzi in mare di rigore fran addosso all'ex Pineto. Come ci dimostri il replay il rigore è netto. Agostoni decreta per la seconda volta il penalty che questa volta si incarica di battere l'ex romana Piscitella. Timbrando il raddoppio. Non cambia l'epilogo ma semmai solo l'angolo Gabbianelli sceglie quello di destra, Piscitella quello di sinistra. I Rimini si diverte, sfioritrisse con Gabbianelli direttamente a calcio piazzato. Gran punizione del numero 10 Biancorosso altrettanto splendida la parata di Sorzi che merita il replay. Nel finale c'è spazio anche per Maietta che smanaccia l'angolo battuto da Sala. La gara termina qui con il sorriso che torna sul volto della prima della classe.